Un'esplosione S.E. dell'esplosione avvenuta oggi davanti all'ambasciata americana a Pechino, ma secondo alcuni testimoni un uomo avrebbe cercato, di lanciare una bomba artigianale oltre il recinto dell'edificio M.A. Lordigno e gli sarebbe esploso tra le mani. Lo riporta Radio F.R.E.E. Asia, secondo quanto scrive Hong Kong Free Press, HKFP. Secondo Global Times, riporta sempre HKFP, una donna H.A. ha cercato di darsi fuoco davanti all'ambasciata, ed è stata P.O.R.T.A.T.A. via dalla polizia. Non è chiaro ancora se i due episodi SIAN o collegati. . . . . .